La stretta di mano comunque fra i contendenti. Prima coppia finalista è la formazione della Brescia Bocce, Maurizio Mussini e Luca Ricci. Ora siamo sul campo numero uno, vediamo anche questa partita come si concluderà direi già molto molto combattuta. Chiama 11 Giuseppe Dalterio, risponde 10, Di Nicola ha due bocce e deve andare a fare un punto. Lui ha sempre bocciato in questi ultimi tiri e sarà abbastanza difficile poter prendere quel punto. Vedete Giulio Crosta ormai Avezzo, ormai in pratica un giocatore determinante nella Terna, sta insegnando un po' la strada che non dovrebbe essere difficile, la boccia dovrebbe rientrare leggermente sulla sponda per poi uscire a fondo campo. Non sempre, non sempre escono le bocce lì. Allora bisogna aiutarla. E' un po' da come viene giocata. Sembra giocata bene. Dipende la forza a questo punto. La forza è bella. Vediamo questa zoomata. Bravo Marco, bravo. Fino adesso ha giocato una partita eccezionale, anche se prima non ha messo il secondo punto ed era molto stretto. c'era anche il rischio di vendere magari stando lunghe. Avevo qualche dubbio sul fatto che riuscisse ad andare a prendere quel punto e lo ha fatto. Bravo Marco. Pasquale colpisce ma la boccia non ne vuol sapere di uscire. Carambola sulla boccia, sull'altra boccia. Adesso comincia ad essere complicata la questione. Una partita che si è quasi ribaltata. Eh sì. ora vediamo la bravura di Bonifaci. Si sarà in grado di mettere la boccia dell'incontro direi. Perché si riesce a prendere il punto qua. Sembra un po' lunga. e se non appoggia è lunga. Adesso Marco ha la possibilità di vincere l'incontro. Vediamo. ricordo ancora stavano perdendo 2 a 9. I giocatori dell'Aquila. la boccia sta girando. Vediamo un po' se gira anche la partita. Sembra bella. Giocata benissimo. Grande. Grandissimo. Bravissimo Marco. Grandi applausi per Marco Di Nicola che battono i favoriti diciamo eh Bonifaci e Pasquale D'Alterio. Vedete Crosta che eh si eh congratula con una botta al sederino del ragazzo Marco e effettivamente ha giocato una grandissima partita e sono in finale. Quindi finalissima di questo terzo gran premio città di Varese tra le formazioni della Brescia Bocce del comitato Brescia Centro in pratica Maurizio Mursini, Luca Ricci contro la formazione dell'Aquila Giulio Crosta e Marco Di Nicola.